Il pomodoro è un cibo buono e semplice, così come è semplice fare una buona azione. Sabato 10 e domenica 11 marzo, in 100 piazze italiane, troverete i volontari della Fondazione Umberto Veronesi, che raccoglieranno fondi per sostenere la ricerca sui tumori infantili. Nell'ambito del progetto Il Pomodoro, buono per te, buono per la ricerca, potete acquistare 3 latte di pomodoro con una piccola offerta di appena 10 euro e contribuire a dare le migliori cure possibili ai bimbi malati. L'elenco delle piazze è sul sito www.fondazioneveronesi.it e visto che ciò che fa bene è anche buono, vi lascio una breve ricetta. Pane casareccio tagliato a fette, pomodoro condito con olio extravergine, sale e origano, un breve passaggio in forno a 180 gradi e poi guarnite con burrata e cappeli. Una ricetta golosa pronta in 5 minuti da fare con il pomodoro che troverete nelle piazze il 10 e l'11 marzo.